Devo dire che le emozioni sono tante. In settimana un po' quando Connor mi ha detto che sarei partito di titolare e non ci volevo credere, ho avuto quei cinque minuti un po' di panico che mi ha detto che è tutto a posto. Quindi devo dire che è un'emozione unica avere la possibilità di giocare alla Viva Stadium da titolare e spero di ricambiare la fiducia datemi dall'allenatore. Sì, abbiamo analizzato sia la partita che abbiamo fatto con l'Inghilterra, abbiamo visto un po' quelle due o tre mischie dove siamo andati un po' in difficoltà e non siamo riusciti a trovare le contromisure e ci abbiamo lavorato in settimana. Abbiamo analizzato bene gli irlandesi che secondo noi hanno una mischia molto più competitiva degli inglesi addirittura, quindi dobbiamo lavorare fin da subito tutti insieme e cercare di mettere in pratica il lavoro svolto in settimana.